L'umiltà del grande campione mi fa piacere, io ho posto queste due domande che mi sembravano essenziali e lui ha risposto con una sincerità veramente disarmante, cioè lui dice io sono qui pronto, ho fatto delle cose buone, altre non le ho fatte, però i ragazzi mi fanno sentire importante, capisco che questa è una squadra che mi può appartenere e insomma il Palermo studia proprio per questo. Mi è piaciuto proprio l'umiltà con cui si è calato, perché in fondo lui non ha fatto né meglio né peggio di quelli che l'hanno preceduto, quindi insomma è poi un campione che arriva qui con tanti anni alle spalle in giro per il mondo da quando è nato, con titoli e dopo titoli conquistati, insomma dire una cosa del genere significa che il Palermo può contare su un protagonista di assoluto valore.